E' ovvio sia così. Hai sentito, Batman? Il bambino non è più tuo. È mio. Mio, mio, mio. E ne farò ciò che voglio. Ehi! Non te l'ho chiesto. Qual è il segreto? Chi è il pipistrello cattivo? Il suo nome? Dimmelo. Ma certo. Non mi sono mai piaciute le lingue lunghe. Ecco perché lavoro da solo. Nessuno che possa rovinarmi le battute. Dovresti provare anche tu. In fondo, sai già cosa succede quando trascini gli amici in strani giochetti come i nostri? Grazie. 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 Grazie.